buonasera a tutti eccoci in questo nuovo video smart allora ho ricevuto da pochissimo questo box che cos'è questo box allora questo è il sensivo praticamente una scatoletta che va a leggere i segnali infrarossi dei telecomandi in questo caso galletti poi vi spiegherò di cosa si tratta e va collegato alla linea internet e renderà i vostri climatizzatori smart allora io avendo una casa moderna è una casa in classe a4 ho una pompa di calore di calore ma i venti colvertore della galletti quindi vi faccio vedere non sono sicuramente dei prodotti che si possono rendere smart ma ho pensato di usare il sensibo per vedere se funzionava allora sono rimasto sorpreso ho già configurato tutto molto semplice allora si collega allo spinotto quindi l'ho collegata alla presa collegate la app che dovete scaricare io ho già fatto ve la faccio vedere subito scaricate la app sensibo eccola qua vedete dopodiché andate a configurarlo con la linea internet tutto molto semplice e dopodiché dovrete fare la ricerca allora è stato velocissimo ha trovato subito il climatizzatore e dopodiché dovete andare a vi chiederà di simulare tutte le funzioni del telecomando in modo da poterle copiare allora io ero molto scettico per ripeto avendo la pompa di calore in casa e il venti colvertore della della galletti fm non mi aspettavo che funzionasse invece grande sorpresa vi faccio vedere subito cosa sono riuscito a fare tra l'altro l'ho collegato anche ad alexa quindi veramente eccellente ho già una casa completamente smart mi mancava sicuramente un qualcosa in più per i cavetizzatori siamo in dicembre non è portanza io l'ho appena acquistato siamo sotto i 90 euro c'erano delle offerte speciali e l'ho acquistato lo sto testando allora vi faccio vedere come funziona potete tranquillamente usare l'app telefonica adesso in questo momento io ovviamente ho trovato il nominato prima camera da letto e dopo di che ho provato a farlo funzionare allora si può accendere direttamente da qua vedete ha sentito il bip il primo si è acceso eccolo qua vedete si è già acceso e sta funzionando si possono fare tantissime cose si possono andare a modificare alcuni parametri ecco come vedete questo è la schermata del sensibo si possono andare a aumentare i gradi della temperatura si può migliorare fare la rotazione fare non so farlo mobile vediamo se funziona ecco come potete vedere le alette si stanno muovendo vedete su e giù quindi funziona molto molto bene ma la cosa che mi è piaciuta di più è che si può collegare ad alexa allora andate direttamente sulla app di alexa ovviamente io l'ho già fatto dovete andare nella sezione skill e andare a inserire praticamente la skill sensibo dopodiché dovete soltanto andarla configurare quindi darete il vostro account e alexa una volta che ha accettato l'account non farà altro che azionarsi quando voi lo richiedete allora è stato veramente una bella sorpresa perché ho provato subito con alexa adesso vi faccio vedere ecco spegni clima camera da letto ecco ecco qua vedete si è spento si è spento subito ha letto subito il comando adesso alexa un po lenta questa sera non so come mai ecco qua praticamente io sono andato a a scaricare la skill di sensibo vi faccio vedere sensibo eccolo qua vedete ci cliccate sopra ecco praticamente questa volta che la trovate andate a configurarla ecco io ovviamente l'ho già configurata infatti vedete dovrei disattivarlo ma è già impostazione già ho già dato l'account l'ha trovata subito e poi dopo di che ho fatto la ricerca dei dispositivi vi faccio vedere come l'ha trovata eccola qua tutti i dispositivi io ovviamente ho tantissimi avendo una casa completamente smart ho tantissimi dispositivi ma praticamente l'ha trovato eccolo qua vediamo dove finito eccolo qua clima camera da letto eccolo qua quindi alexa ha letto praticamente il nome che io ho dato direttamente al sensibo vedete dice già in quanto è la temperatura attuale di 22 gradi e mezzo vediamo se funziona adesso il clima come potete vedere è spento vedete lo accendiamo ecco accendi clima camera da letto ecco accendi clima camera da letto ecco qua forse prima non avevo la sentito bene si è acceso ragazzi promosso mi è piaciuto tantissimo non mi aspettavo che funzionasse con il con il 20 il convettore della galletti fm che tra l'altro lavorano con la pompa di calore e sono abbastanza vecchi insomma non sono proprio dei clima recentissimi tra l'altro funzionano sia con aria calda che con aria fredda ma con questo sensivo devo dire che ho risolto anche questo problema diciamo ho fatto diventare smart anche questo clima è veramente eccezionale sta ancora andando e se lo spegniamo ecco spegni clima camera da letto ecco qua ragazzi fantastico consigliatissimo questo sensibo sicuramente andrò a comprare anche il plus sensibo sky penso che si possa configurare soltanto un climatizzatore non ancora provato ci proverò al limite farò un altro video grazie e arrivederci al prossimo video